Ciao, io sono Ale, benvenuti e benvenuti in questo mio nuovo video. Come vedete oggi sono in un set un po' diverso dal solito che magari avrete già visto. Infatti sono in compagnia di... ecco qua, sono con Chris e Mary a casa sua. Siamo nel mio set, nel mio studio di registrazione. Ciao a tutti e ciao a tutte. Questa sera siamo qui per registrare due video. Uno è questo e uno è sul suo canale con una challenge dove indoviniamo i trigger. Qui indovinerò io dei trigger scelti da lei. Lassando questa mascherina che è simile alla mia ma ha volo di gatto. E trovate anche il video sul suo canale nel quale appunto potrete andare a vedere quanti trigger hai indovinato e con quanti indizi. Adesso non è che dobbiamo spoilerare voglio dire. Sì. Comunque sono stata bravissima. Eh sì. Adesso vedremo io cosa riuscirò a fare. Sono aperte le scommesse su chi è stato più bravo ma... Cioè... Vedremo. Vedremo. Ora quindi indosso le coppie e la mascarina per iniziare la challenge. Ok cominciamo. Ok. Sei pronto? Sì. Concentrato? Sì. Sai che perderai vero? Ci ho pensato. Allora ho preparato tutto. Vuoi partire dal facile o dal difficile? Aiuto. Dal difficile. Dal più difficile. Anche se poi devo dire che non sempre coincide vedendo il tuo video. Cioè nel senso magari una cosa che sembra facile in realtà non lo è però. Beh sì. Non è che adesso devi andare ad infierire perché abbiamo già registrato il mio vero? Dopo vedremo con te. Comunque d'accordo. Ok. Il più difficile. Aiuto. E' una spazzola. Non è una spazzola. Allora. Non vuoi cosa che è brushing slash scratching. Però... Aiuto. Quanto? No. Non è spazzola. No. Sono stata cattiva. Allora è un trigger che ho già portato su YouTube ma non sul mio canale. Non è un trigger che ho già portato su YouTube ma non sul mio canale. No. 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 Ah forse tipo Non so Qualcosa schiacci Sì Tipo una specie di squish Tipo la pallina squish No non è una pallina Però tipo lo squish Con dentro cosa? Acqua Acqua Non lo so Senti Senti tipo Tanti Non lo so Una superficie rubina No Oggio Senti Mi ritrovo Cominciamo a vedere più difficile Tipo Non so Una specie di Non lo so Dammi l'altro indizio Eh Anima ora ti dico Che l'umore che senti Sono palline Di polistirolo Che bene Questo indizio Mi ha servito Che stai facendo Che stai facendo sul microfono Poi Su microfono Sì 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 Ah è tipo uno di quelli Di quelli anti stress che si schiacciano Sì Bravo Bravo Che pubblica Abbiamo visto oggi Sì Però quando ho detto Il polistirolo Non lo so Bravo Esatto Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ed è a forma di cane Sì Sì Siamo qua come mascotte Sopra il microfono Così Io non lo vedo No Bello Gli occhi mi stanno Ci sono bruciati Viva Ok Beh Però Questo era difficilissimo Lo prossimo trigger È un must Del mondo ASMR Ok Vediamo Ah è qui Non vorrei Gelatino L'hai dovinato subito Sì Tu non potessi L'indovinarlo Se non lo indovinavi tu E' come se avessi portato La plessitra d'acqua Cioè Quale C'è un must Dell'SMR L'ho detto Quindi Ecco Gelatino Tantissimo C'è L'ho C'è Stai guardando I video Senti Senti Sì L'odore Questo Sì Sì Ecco Oicano Che profumo Che profumo Pazzesco Di cocco Ciao Carlotta Ciao Grazie per aver portato Questo Per aver portato nel mondo ASMR Questo trigger Fantastico Ok Questo L'ho portato per te Perché sono Questo è proprio Dal più Difficilissimo Pronto No 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 Adesso No Questo era facile No no Ok Non sono andata in ordine Ok Questo Ho visto Ok Plastica Ho visto Questo è difficile È proprio vero Che quello che sembra Facile È difficile Alle orecchie Da riconoscere Sembra tipo Un bicchiere Plastica No No Qualcosa Composta Che Suoni Si fa suoni Diversi Sì Ma più pezzi Che si Separano No No È stranissimo Allora Stai facendo Scratching Allo stesso momento Anche prima Hai detto Stai facendo Scratching Poi mi hai chiesto Se c'era Acqua dentro Allora Ha due superfici Ok Questa è una Più Questa è l'altra Ok Una spazzola Ah sì Ho capito Qual è Quella forma di avocado Sì La spazzola Forma di avocado Ma me la sono anche passata Nei capelli Non sentivi? No Adesso sì E non ci ho fatto caso Ah sì Forse se facevo così L'abbiamo presa oggi Comunque Questo Quindi sì Che bella Devo ricordarmi Un bel dettaglio Ok Bravo Bravo Era facile Però sembra Tipo Che facevi scredito Ah lo so Ma infatti L'hai sbagliata Ha detto Ma com'è possibile C'è sta come E il bel È che ho pensato Anche che avresti potuto Cioè che l'avresti potuto Portare Dettaglio Perché non l'hai più vista Sopra quella di la verità No però Allora pronto? Va bene Via Questa Lo so È di anuarone Esatto Poi c'è anche bello Scusa Ve lo faccio un po' Perché sento Beh dai Due facili Due Uno difficile Uno mediamente difficile Per ora Qual era il mediamente difficile? La spazzola? Sì la spazzola È da tanto Che lo porto sul canale Questo è un trigger È bello Però È strafietivo Sono stupido Lo faccio anche senza Tipo Beh mi piace di più con La copertura Sì così più forte Però non è male Così Ecco Sai cosa portare al prossimo video? Ah Ok Proseguiamo Allora Ho altri Due trigger Uno un po' più difficile Uno un po' più difficile Ecco Aiuto Allora Per me Sono Delle Palline Delle piglie No Ah Un braccialetto Con le pietre No Delle pietre Sì No 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 Dei sassolini No No Eri un po' incerta Ci sei No ci sei Sono più pezzi Perline 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 Pietre No 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 Qua Ho vetro Plastica Ma Sanno suono Petratico Ho vetroso Sono di plastica Quindi se sono di plastica... Se sono di plastica, non ho idea. Hai un indizio? Sì. È difficile da darti un indizio. Per cosa si usano? Per cosa si usano? Anche per giocare. Hai dati? Gli ho dato un indizio. Quello che conoscevo. Davide. Sì, però è stato... Cioè, praticamente gli l'ho detto. Ma questo trigger non si come... No, non vale. Non vale. Se non ti dicevo che si usano per giocare. Anche sono data. Ok, ultimo. Si provano sfere. No, eh, si provano sfere. Ma sono... Ok, ultimo. Scatolini di catodone. Scatolini di catodone. Scatolini di catodone. Ho fatto... Tutti, tutti, tutti. Che è che si potrà risolto? Sentire. E guarda ti faccio anche questo. Secondo me questo oggetto, cioè, si presta... Allora al tapping, ok? Allo scratching qua. Poi... Questo è un solo. Il solo... E poi c'è questo. Oddio. Ho visto ancora una noce. E poi dentro, senti questo. Che figata. E perché adesso ne ho usato uno, ma se ne usi più di uno... È tipo la scatola della scubilità. E dopo? Vabbè. Oddio. Secondo me è già. Oddio. Ci stavo fumicando. Tutto bene. Eccomi. Sì. Ho gli occhi un po' abbannati. Perché la mascherina stringe tanto. Mamma mia, hai sentito? Ma con queste luci... No, non c'è... Sto iniziando ora a rivederci meglio. Comunque sei stato bravissima. Mi aspettavo, cioè... Bravo. Eh, beh. Ti ho aiutato tanto, però sei stato bravo. Con i toti. Però questo è stato... Lo sapevo. Lo avresti fatto. Però... Ho questi, ma c'è... Non mi aspettavo. Non me l'aspettavo. Pensavo... Invece lo indovinassi subito, sì. No? Perché questo lo indovinassi subito. E invece tipo che... Che ne so... Vabbè anche i gelatini, ok? Subito quelli. C'è... Anche il termarolle, l'armeletti. C'è subitissimo. Appena l'hai usato. È lui. Perché ormai sono stati strani che conoscono. Ma sì, eh. Quelli che si conoscono. Come quando tu hai usato... Un trigger. Come vedrete sul canale. Esatto. Quello colorato. E... Ho sentito il suono. Cioè, ecco. Quello è quello. È quello. Per forza. Bene. Siamo giunti alla... Alla fine di questo video. Speriamo vi sia piaciuto. Mi abbia fatto rilassare o ridere un po'. Divertire. È stato intrattenitivo. Esatto. Noi ci siamo divertiti tanto. Decisamente. Lo vedrete nei bloopers. Esatto. E... Niente. Quindi... Noi abbiamo registrato due video. Uno in fila l'altro. Però... Ci siamo riusciti. Ed è solo... Vabbè. Una e mezza circa. Dai, pensavo... Quindi... Ora... Vi salutiamo e vi auguriamo la buonanotte. 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 personagem. Grazie.